favorire lo sviluppo dell'agricoltura di precisione c'è tempo fino al prossimo 2 ottobre per partecipare al bando promosso dalla regione puglia i dettagli nel servizio pubblicato dalla regione puglia un avviso finalizzato al finanziamento di un progetto pilota della durata di 24 mesi per la promozione lo sviluppo dell'agricoltura di precisione questo è il secondo sostanzialmente bando che noi facciamo proprio in virtù della applicazione della legge 55 del 2018 sull'agricoltura di precisione una legge regionale che sostanzialmente riprende un po' quelli che sono i temi che già l'europa nel 2018 aveva evidenziato attraverso la comunicazione della commissione europea sull'agricoltura produttiva e sostenibile utilizzando le nuove tecnologie e che sono i temi che oggi sono alla base di tutte le politiche ambientali che saranno il cardine della nuova PAC e quindi del piano strategico nazionale 2023-2027 Un'opportunità per innovare il comparto unendo competenze e capacità Possono presentare la domanda dei partenariati abbiamo immaginato che l'azienda agricola sia il soggetto capofila proprio perché applicare l'agricoltura di precisione significa essere operativi nelle realtà produttive agricole ma che nel partenariato sia obbligatorio alla presenza di soggetti scientifici dell'università o dei centri di ricerca che mettano a punto le tecnologie e le modalità per applicare diciamo le tecniche di agricoltura di precisione nella realtà aziendale Grazie Grazie